Il fenomeno delle scie chimiche torna sotto i riflettori perché l'avvocato Nicola Trisciuglio per conto del Comitato Guardiani del Cielo presenterà a tutte le 140 procure italiane la denuncia a querela che si concentra sugli aspetti tecnico-giuridici delle forme e delle modalità di controllo da parte degli enti preposti sulla omissione anche informativa delle irrazioni chimiche. Da parecchi mesi stiamo monitorando i cieli perché dal 2002 quando Berlusconi fece un accordo con Bush stanno attuando una manipolazione del clima sopra le nostre teste. Noi con un gruppo di 6.000 persone tutti i giorni facciamo un monitoraggio dei cieli attraverso foto e video e perciò siamo arrivati ad una situazione in cui abbiamo capito che in tutta l'Italia stanno facendo la stessa cosa. Allora abbiamo fatto una prima iniziativa con le lettere al sindaco nel quale abbiamo chiesto caro sindaco dato che tu tuteli la salute pubblica facci sapere che cosa sta succedendo nei nostri cieli e abbiamo mandato centinaia di lettere ai sindaci. Però tutti ci hanno risposto che non è cosa che riguarda noi ma il controllo dei cieli deve avvenire attraverso vari enti preposti a questo. Noi ci siamo rivolti anche a questi però ci hanno risposto che nei nostri cieli non accade assolutamente nulla. Dato che questa cosa è sopra gli occhi di tutti allora abbiamo deciso di andare direttamente a chiedere attraverso le procure agli enti preposti esattamente che cosa sta succedendo in Italia. Non molleremo assolutamente. Ci sono anche le soluzioni perché noi le sciacchimiche le possiamo anche in un certo senso dissolvere attraverso l'elettromagnetismo. Gli enti preposti saranno quindi chiamati a rispondere ai quesiti dei cittadini. Grazie a tutti.